Musica Bentrovati telespettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di mercoledì 15 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale. Questo grazie alla presenza di un anticiclone posizionato sull'Italia e sul Mediterraneo centrale in genere. La ventilazione risulterà debole e variabile e i mari saranno generalmente calmi o poco mossi. Mentre per quanto riguarda l'aspetto termico le temperature subiranno un lievamento su gran parte del territorio. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche si presenteranno stabili e soleggiate su gran parte del territorio regionale. Nel corso del pomeriggio e della sera le condizioni meteorologiche non vedranno variazioni con i cieli che continueranno a risultare sereni. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie a tutti.